Ciao a tutti Speriamo di trovare il prima possibile un avversario Perché vediamo giocatori online che ce ne sono abbastanza Ovviamente i giocatori in cerca di avversari sono solo 297 Quindi vediamo facerne che partire la ricerca Io come un coglione giustamente Allora vediamo se riusciamo subito a trovare una partita Speriamo bene, ecco qui Allora l'ultima volta è andata benissimo Ho fatto una remuntata a Balorda Ovviamente il mio avversario ha abbandonato subito la partita Grande Andiamo di nuovo Vediamo se troviamo un avversario Ovviamente le musichette fighe di FIFA 13 Grandissime, bellissime questa canzone Ok, dai un avversario Perfetto, grande Allora ragazzi Dove prende Arsenal? Io prendo, dai visto che ci siamo ragazzi Vado anche io in Inghilterra e mi prendo Io sto molto dove sono gli Spars ragazzi Il Tottenham Vai col Tottenham, Arsenal contro Tottenham ragazzi Ok, gestione Devo vedere un pochettino la squadra ragazzi Perché io non mi ricordo bene Allora C'è Dembele che da mettere Al posto di Sigurdsson Ok Dembele Ok, Bale esterno Perfetto Sandro che No, Sandro, aspettate un attimo Dempsey Vai mettiamoci Dempsey lo stesso ragazzi Dai Che cazzo sei tu? Loris raga Sono forte Dai lasciamo così ragazzi Non ho voglia Andiamo Arsenal contro Tottenham Vediamo chi La spunta qui raga Defoe, defoe, defoe Prova il sinistro Che schifo Rigore, rigore Eccolo qui Ovviamente non mi da neanche il Bello, bello Vabbè Fantastico ragazzi Allora Ok, dai, dai Vai avanti Zio Vai avanti Grande Vai avanti Perfetto Se vai avanti Mi fa un piacere Dai Andiamo Non l'ho modificata La squadra Non sono un nab Beppe, secondo te cosa Possiamo aspettarci Ancora Cioè, vuole versi Ragazzi, vuole versi tutto Cioè, si crede Un giocatore Un giocatore Dell'Arsen O del Tottenham Cazzo O dell'arbitro Che cazzo ne so Se lo vuole vedere tutto ragazzi Io mi devo rompere il cazzo Ovviamente Beh, belle Belle le videocamere Avete visto ragazzi Che bellezza Ora si comincia ragazzi Ben belle Subito Defoe Defoe Oh No, dai Defoe, grandissimo Grande Ma che schifo Bello Cosa stai facendo Mi sta laggando Sei cazzo Bail Passaggio intercettato Si spinge in avanti Uh Demsai cazzo Non ci credo Vai grande Grandissimo Uh Demsai No, vai Cazzo Se cazzo Do Ma che intervento Eh Ma che intervento Dai Vai Vertonghen Come cazzo ti chiami Arteta Grande Vertonghen Niente ragazzi Si è tuffato Raga Pensavo di essere a nuoto Invece non era lezione di nuoto Grande Tira dritto Tira Perfetto Beh, cosa stai facendo Loris Ah, calcio d'angolo No, sca... Che palle ragazzi Veramente Ma ha rotto il cazzo Sto tipo Eccolo qui di nuovo Ragazzi Ha fatto ripartire Ma un po' lunghetta Un po' lunghetta Passaggio di nuovo Del Tottenham Ragazzi Dai Ma che cazzo Di passaggio E vai beh Il grande Debele De... Ah, Debelle No, sì, ma il... Oh, no, cazzo Cosa gli ha salvato Dai, ma che cazzo Di interventi fai Che cazzo Di interventi fai Bisogna portarsi La casa Da sta vittoria Ragazzi Che cazzo Un giro Casorla Casorla Grande Gallas Dempsey Contro Dai Ma perché Fai certi passaggi Non sei neanche Giocatore Da Tottenham Fai cagare Dai Dammi il giocatore Ma quanto cazzo Sta laggando Ragazzi Quanto cazzo Sta laggando Cioè Allucinante Questo tipo Mi attacca Quando laggo Bello Ovviamente Cosa succede Mi lagga Che è una bellezza Ragazzi Dio santo Dio santo Cazzo Dai E vai A prenderti Questo pollo Dai Ma lo vedete Ragazzi Perché mi si blocca Grande Che errore Laggate di merda Vaffanculo Cominciamo Peggio che mai Ragazzi Dempally Dempally Grande Vai Bale Ma ovviamente Se la lunga di merda Bale Grande Vermele In che c'è un controllo Della Della Madosca Cazzo Allucinante Gips Arte Mi sta laggando Cazzo Mi sta laggando Il fastidiosissimo Ragazzi Mi va tutto a tratti Non so se voi lo vedete bene Ah ragazzi Poi volevo parlarvi anche di un altro Vi so che sono anche Facciamo sto video Spero che non mi ricordo Dai ma guarda Che cazzata Bravo Dai E dammelo il giocatore Non me lo dai Manco un morto Cazzo Deve crollare tipo Zomi Grande E passare Non bloccarla Questa cazzo di palla Vai Lennon 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 Cazzo Lennon Vai Lennon E dai Ma se la fa prendere Come un cogliore Cazzo Un bambino Noè Cioè Mai non ci credo Ma dai Ti muovi Poi tutto questo controllo Cazzo Vedremo se riuscirà Eh c'è la gamba più lunga Guardate questo sto Grande Ma che cosa fai Ma mi sta Ma mi stai prendendo per il culo Sta laggando ragazzi Mi sta laggando tantissimo E non riesco a controllare Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Demballi 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 Bail Bel passaggio Vai Lennon Vai Lennon Ma stiamo a chiudere Attento il portiere Stava per Dai e dammi questi cazzo di giocatori Santissimo Ovviamente Grande Volker Che giocissimi Sti cazzo di giocatori Veramente Sti giocatori Veloci Si allarsena Che il Che il Tottenham Non riesco ancora a segnare Ragazzi Devo segnare un bel gol Arteta Arteta Volkot Volkot Mi preoccupa di più ragazzi Ah vi stavo dicendo comunque Il problema che mi è capitato Dei video che Non so come mi renderizzi YouTube Mi sta renderizzando di merda E infatti si vedono Si vedono I pixeloni Come avete avuto Vergrante Defoe Defoe Eh ma cazzo Santissimo Dai ma come fai A fare quel Dai Dammi gallas Cazzo Grande L'ho inculato Ragazzi Quindi vi stavo dicendo Si vedono tutti i pixel Non so perché ragazzi Infatti mi sto infastidiando tantissimo Perché gli ultimi 4 video Sono tutti così Cioè sono Cioè più o meno si vede Solo tra Le corrispondenze delle immagini Vai defoe Di nuovo Il più grande Defoe Defoe E che gol ragazzi Garrett Bale 1 a 0 E quindi ragazzi Mi sta caricando il video Con questi pixeloni Che si sono in bella vista E io non capisco perché Ovviamente siamo 1 a 0 E mi sto In una taria Che fastidio Adesso comincio la tosse Cerchiamo di bloccarla Basta Non passi più strano Non so che con il tuo lag di merda Passaggio a puntiare E' Dempsey Dempsey Ma che schifo Dempsey U grande Completa il passaggio Niente ragazzi Niente ragazzi Niente Non riesco Grande Taglialo Non fa taglialo Come si fa a 12 Comunque si ragazzi Quindi Questo problemino Della Risolvo Almeno io Mi dica un modo Adesso cercherò youtube Proprio per farmi Per risolvere sto problema Perché mi sono rotto i coglioni Non può iniziare il video Con quel caso di pixeloni Si vede di merda E io vorrei Vogli darvi il miglior video possibile Invece non me lo permettono Quindi ragazzi Partiamo subito con il secondo tempo Perfetto A sera al 0 Toteramuno Speriamo di esogere sto problema Insomma Ti coglioni Proprio Ho fatto il video di crisis Ieri Veramente figo Invece Che problemi Cazzo raga Eh dai Ma ti passa sempre Tra le gambe Ma dai Alla prima occasione Ma vaffanculo Ma sei anche contento Ma vai a cagare Portiere di merda Cioè Loris Guardi posso stare le gambe Ragazzi Fa due giochettini Cioè Neanche due giochettini Non lo fa neanche apposta E mi segno Che palla raga Passa ancora compagno E bene Scarica sul compagno Dai ma me lo blocchi Cazzo Me lo blocchi Ma vaffanculo Eh fischia quel cazzo di fallo Brutto stronzo di un arbitro Arbitro del cazzo Dai seguilo Ottimo passaggio Ottimo passaggio Ottimo passaggio Ottimo passaggio Nella gerarra con walk Tutti fa male Dai ma lo anticipo Sempre Vai grande Perfetto Grandissimo Dai salvo Gareth Bale Gareth Bale Che schifo di tiro Che schifo di tiro Gareth Bale Mamma mia Il Real Madrid Lo vuole pagare Più di 100 milioni Ma stiamo scherza Ma vai grande Ma vai grande Ma che cazzo Succede Ma che cazzo Succede Ma molli la pala Così Cioè ma ti do un calcione Il culo Pezzo di merda Ovviamente Gallas Uno schifo Bello Ma stiamo scherzando Ragazzi Ma che cazzo Di difesa Lo trovate Nei popcorn Del Cine World Del The Space Che cazzo Ne so Ma stiamo scherzando Vai ancora Difo Difo Grandissimo Ma è bello Giustamente Lui sa Anticiparmi Ogni mossa Ragazzi Ogni mossa Non la passa Ragazzi Non la passa Cioè Ma stiamo scherzando Io mi sto rompendo Del cazzo Vai fuori dai cogli E la prende Anche la riprende Questa la cosa Che mi fa girare Il cazzo Sempre Le stesse cose Fa Sempre Le stesse cose Sto stronzo Ma dai Ma lo dici Sempre Ma che cazzo Questa Queste sono le putate Di FIFA Ragazzi Cioè Ma stiamo scherzando Cioè Lo stessi Lo rovi Grande vai da Emsi Grande Dai Piano Piano Minza Ma vaffanculo Dai Ma vaffanculo Sei giocatore Da serie 2 Mi Ma rimanita In serie C Ma neanche in C Ma neanche in C E non la passa Ma che culo Ma che culo Cioè Non hai un culo Ma va Ragazzi Di rivivere la partita di ieri Cazzo La partita di ieri Che gol Ragazzi Dembele Dembele Grandissimo Infortuna Lascia il segno Ma 2 a 1 Ragazzi Ma meritatissimo Sembra ieri Ragazzi Ho fatto una partita 24 tiri 3 gol Lui ha fatto 7 tiri Mi ha fatto un gol Voi pensate Il risultato alla fine 3 a 1 Ragazzi Vi giuro Come finalizzazione La mia scuola Faceva appena Quel giorno Il mio Real Madrid Ve lo giuro Ovviamente adesso Mi segneranno Oh grande E ovviamente Cosa succede? Vai Grande Ma che cazzo Che cazzo No Tira No Non ci credo Ragazzi Ma si credeva Cristiano Ronaldo Col tacchetto Ma dai Le stai parando Tutte Ma che portiere Sei cazzo Sei peggio Di Neuer E poi era fallo mio Ragazzi Era fallo mio Passaggio Riuscito Vanifica L'azione Avversaria Ma Ma stiamo scherzando Palla Persa Bel Passaggio Ma Ma Come te L'allunghi Cioè Ma vorrei capire Come te L'allunghi Cioè Veramente Allucinante Questo gioco Allucinante Cioè Io vorrei capire Come cazzo Giocano Ma vi sembrano errori Ragazzi Vi sembrano errori Da giocatori Di serie A Di Premier League Che cazzo Nesso Vi sembrano errori Del genere Cioè Giocatori possono fare Errori del genere Ovviamente Piano Pianissimo I passaggi Ragazzi Pianissimo Perché io Devo soffrire Come una bestia Devo soffrire Come una bestia Per vincere Stta partita Dai Grande Ma Cioè Sei velocissimo Ma c'è tutti i giocatori Doppati Che cazzo Ne so Ragazzi Mi potete confer Io spero che Nei commenti Mi confermiate Che l'Arsenal Ha dei giocatori Che sono Minza Sono Usain Bolt Tutti quanti Però ragazzi Tutti quanti Non riescono a proseguire La loro azione La difesa di ferma German Diffo Restituisce la palla Cosa succede? Chissamente Mi fa le puttanate Che non fa quello che dico Ma va Ragazzi Che ci volete fare? Dai Sviluppano il gioco Grande 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 E corri Stronzo Ma va Fanculo Va Non sai fare un cazzo Non sai fare grande 2 minuti a termine del tempo regolamentare Cosa stai facendo? Grande 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 Garrett Ma che schifo Che schifo Bravissimo E lo fai veramente vomitare Non appenderò mai più questa squadra Fidati che ricomincio con te Adesso vediamo i dati di partita ragazzi 10 tiri Io 5 2 gol Vabbè Non posso lamentarmi Ho fatto meno tiri in porta Però cazzo Sempre la sa cosa C'è anche cagata Non va Questa finalizzazione del cazzo Vabbè Comunque sia ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace Se ovviamente Avete apprezzato il video Ci vediamo alla prossima Chiedetemi pure Se volete che faccia qualche altra parita Su FIFA 13 Tanto io la faccio volentieri Lo sapete Tanto mi vedete Mi vedete nervoso Più che mai In queste modalità E niente ragazzi Quindi ci vediamo alla prossima Ciao raga